Papà! Albertina! Sempre più persone assomigliano a Einstein perché hanno scoperto la spesa intelligente da Eurospin. Sono tutti prodotti Eurospin e li trovi solo qui? Cioè Eurospin sulla qualità ci mette la faccia. Se invece di una volta alla settimana ci vengo due volte, risparmio il doppio. E io ho scoperto questa offerta. Birra Best Brow 500 ml a 44 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente. Grazie.